Ciao a tutti, sono il Reno Cianotti di Orgoglio Nerd e siamo qui con LEGO Marvel Super Heroes. Non ci troviamo... 75% devo migliorare... Non ci troviamo davanti a io che gioco a un gioco, ma a un esperimento. Un'idea che mi è venuta e della quale vi ho parlato due video fa, mi sembra. LEGO Marvel Super Heroes è un meraviglioso gioco dedicato all'universo Marvel. Eccoci qua sull'eliveivolo dello S.H.I.E.L.D. Allora, va a pescare molto dai film, come grafica di alcune, ad esempio, le armature di Iron Man oppure il design dei veicoli, ma è praticamente il gioco Marvel più dettagliato per quanto riguarda appunto ogni più piccolo aspetto di ogni più piccolo personaggio che abbiamo mai visto. E visto che, come potete vedere, non li ho sbloccati tutti, i personaggi sono davvero tanti, volevo provare a... a iniziare a giocare, giocherellare con ognuno di loro e insieme parlare delle origini fumettistiche, di cosa ha fatto. Insomma, una sorta di enciclopedia Marvel. Quello che vi sto per raccontare va a memoria, ho riletto un po' le biografie, però non sono infallibile, quindi abbiate pazienza e se vedete che dico gastronerie, scrivetemelo sotto e non ci sarà nessun problema. Non cominceremo da Iron Man, tuttavia. E neanche dal Dottor Destino, c'è sempre un personaggio che vi segue. Faremo questo viaggio con il Dottor Destino, visto che è stato martoriato nel nuovo film dei Fantastici Quattro, tra virgolette, non so se li avete sentite. Lo terremo come... non dico mascotte, però dico compagno di viaggio. Si inizia sempre con questi due personaggi, un po' perché Iron Man, nella storia principale del gioco, è il leader dei buoni e il Dottor Destino è il leader dei malvagi. Li controlla lui, insomma. Oggi inizieremo con... Ghost Raider. Allora, ci sono due modalità di questo gioco, in realtà ce ne sono di più, però diciamo, le due principali sono... guardiamolo bene intanto. Sono la storia principale, questa è la mappa, la storia principale è l'open world. Proprio come in GTA abbiamo la disponibilità di girare per New York e fare quello che vogliamo, rubare macchine, fare... fare... fare gare, piccole side quest... Basta ridere, Ghost. Johnny. Piccole side quest e anche visitare il Baxter Building, insomma, tutti i punti di ritrovo più famosi dell'universo Marvel che ci sono in New York. Partiamo da sopra a New York, quindi appunto a bordo del... dell'eliveivolo, dello Shield, perché è attraverso lo Shield che tutta la storia principale si... si apre. In particolare, nota particolare, l'agente Coulson è doppiato da l'agente Coulson ed è un po' il... quando si fa il gioco principale, la tua guida, quello che ti spiega come fare, come farlo e ti aiuta nei tutorial. Una volta finito il gioco, almeno la storia principale, per completarlo al 100% Uh, sono il Dottor Destino. Per completarlo al 100% ovviamente ci sono dei... delle side quest da fare e a quel punto la... la voce narrante non è più Coulson ma diventa Deadpool che non abbiamo ancora e andremo a sbloccare se raggiungeremo il 100% Ci buttiamo, quando ti butti e non sei un personaggio volante ti compare il paracaduto è un po' triste però... va bene così Anche se qualcuno potrebbe dire che sia Ghost Raider che il Dottor Destino volano infatti è così Ghost Raider attraverso una moto e il Dottor Destino perché è un figo vola perché è un figo, non ha nessuna abilità nella tuta o magica è semplicemente... uh, bello è semplicemente figo ma fa niente Atterriamo a Central Park Uh, sugli scacchi di Central Park Prima di cominciare a parlare di Ghost Raider e di Johnny Blaze l'incarnazione che abbiamo qui davanti direi di recuperare la moto oltre a sbloccare i personaggi ci sono un'infinità di... no, un'infinità no, però tantissimi... dobbiamo andare là... tantissimi veicoli adesso potremmo rubare un taxi ma fa schifo io non voglio... non voglio guidare un taxi con Ghost Raider a parte che sembriamo... cioè rabbia di Inside Out sembra Ghost Raider oppure anche Ade però... no, non mi interessa io devo... ah no, è su ok, dovevo trovarne... dovevo trovare un... notate nella mappa la freccetta blu che sono io ok, sto indicando un punto che dovrebbe darmi dei veicoli tali... però con il punto ovviamente è sopra il palazzo e noi non possiamo volare potrei cambiare personaggio e... e risolvere il problema, svolacchiare là in alto ma... mi... investiamo il tutto al destino ma una delle cose che mi sono ripromesso di fare, yeah è di cambiare il personaggio il meno possibile certo, se affronteremo delle... queste secondarie dovevamo per forza prima o poi cambiare personaggio perché non tutti i personaggi hanno tutte le abilità necessarie per... per fronteggiare ogni problema però... sapete... preferirei mantenere per ogni nostro episodio il più possibile il personaggio principale tramite questi punti di controllo... adesso... ecco, possiamo tornare sull'eliveivolo velivolo... cambiare personaggio, però possiamo farlo anche con i tasti normali oppure i veicoli non li ho sbloccati tutti, però... lo faremo insieme facciamo... il furgone consegna pizza in stile Ghost Raider le erano tutte bruciate no! la motocicletta 10 HP saltiamo su bella, eh? yeah! è un chopper piccolo in realtà piccolo dettaglio i Ghost Raider non è uno solo principalmente ce ne sono stati tre nell'universo Marvel forse diciamo quattro i principali poi ovviamente invece però sto parlando di livello editoriale ce ne sono stati quattro e poi nella storia americana ce ne sono un sacco di Ghost Raider in giro ma chi se ne frega impegniamo no, anzi yeah! no! torna su ok voglio impegnare non mi ricordo ecco yeah! più metal di così yeah! allora pausa partiamo dall'inizio il primissimo Ghost Raider a livello editoriale era completamente differente da da questo pazzoide metallaro in fiamme che vediamo qua una smart adesso non è più una smart è qualcosa di meglio le smart non si possono o peggiorare e investiamo di nuovo il povero dottor destino no! che di fiamme ne ha avuto già abbastanza non troppe informazioni ricominciamo allora il primo Ghost Raider non era in fiamme non era un demone in fiamme ma era un era pensato per essere una testata una testata in stile western questo nei lontani anni 60 il primissimo Ghost Raider si chiamava Carter Slade Carter Slade era un era un tizio con la faccia bianca con un lenzuolo in testa che proprio in stile in stile western doveva vendicarsi e aveva diciamo era rimasto vittima della magia indiana quindi un nativo americano aveva contribuito al suo diventare il Phantom Raider come poi la testata Ghost Raider cambiò nome tra l'altro quindi smise anche ufficialmente di essere un Ghost Raider adesso sto girando senza meta vi faccio vedere un po' New York il tutto fu abbandonato e poi negli anni negli anni 70 diedero vita a questo bel giovanotto vita per modo di dire Johnny Blaze dimentichiamoci l'orribile film dopo riprendo la moto l'orribile film con con Nicolas Cage e concentriamoci su quello che è quello che è Johnny Blaze dal punto di vista editoriale Johnny Blaze si può dire che sia stato il primo Ghost Raider dal punto di vista narrativo in realtà no ce ne erano stati parecchi prima di incarnazioni c'è stato Caleb mi sembra che mi sono fatto degli appunti ogni tanto li leggo Caleb che era uno schiavo durante la guerra civile e poi c'è stato Ghost Flayer che era bellissimo durante la la guerra mondiale la prima guerra mondiale a bordo di tipo un un aeroplano in fiamme stupendo e poi c'è stato il primissimo ufficiale si chiamava Noble mi sembra ed era il figlio di un pastore che si era innamorato di una schiava nel diciassettesimo secolo ovviamente c'erano i problemi c'erano i problemi tale schiava era stata accusata di stregoneria perché il loro amore non poteva non poteva durare quindi si era inventata una scusa la la schiava maledice tutti mentre sul rogo evoca dei demoni il il patrigno del di Noble evoca evoca il diavolo il diavolo dovrebbe per proteggerlo dovrebbe prendersi l'anima del figlio appunto di Noble Kale che diventa ufficialmente il primo Ghost Raider e tutti i suoi discendenti potranno evocarlo per per diventare lo spirito della vendetta Johnny Blaze invece mi dispiace perché ho visto il film però che bella macchina però questa non l'avevo mai provata yeah mi dispiace perché ho visto il film con Nicolas Cage però diciamo che più o meno a grandissime linee la storia principale l'hanno presa Johnny Blaze fa un patto con Lucifero per salvare la vita del suo mentore che ha un nome bellissimo che si chiama Crash Simpson il è malato di cancro mi sembra il demone ovviamente lo fa guarire in cambio dell'anima di Johnny però proprio mentre lo fa guarire lo uccide anche perché era uno stuntman come Johnny Blaze e mentre si tenta di saltare 22 elicotteri no 22 automobili quello è il film si schianta e muore ovviamente Johnny dice eh ma mi aspettavo che fosse almeno protetto visto che l'hai salvato il mio patrigno invece no sono un demone sono cattivo quindi ti uccido e ti frego ehm Johnny non ha non sa più non ha niente con cui difendersi perché perché è un cacchio di demone quindi sta per soccombere regalargli la sua anima ma la sua amata che mi pare si chiami Roxanne come Moulin Rouge la sua amata Roxanne gli confessa il suo amore davanti al demone che gli dà una sorta di protezione esattamente come Lily Potter e quindi il demone non riesce a impossessarsi totalmente dell'anima di di Johnny però riesce comunque a infilargli dentro il demone Zaratos tale demone la notte quando si trasforma in Ghost Raider deve sottostare agli ordini di non di Lucifero che si che si rivela essere in realtà Mephisto zan 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 e quindi diventa una sorta di cacciatore di taglio infernale che deve recuperare i demone scappate nell'inferno per conto di Mephisto eh questo è Johnny Blaze oltre ad essere un figo in moto in media Johnny può dare il suo potere fighissimo delle fiamme a qualsiasi veicolo lui guidi principalmente una moto perché uh facciamo una corsa però adesso devo andare a recuperare di nuovo la mia moto riesce a conferire il potere delle fiamme a ogni veicolo che lui guida perfino a nel caso cavalchi un un animale come un cavallo anche quello diventa un ponita ma parliamo dei poteri allora i poteri di di Ghost Raider sono lo rendono praticamente uno dei personaggi più potenti effettivamente dell'universo Marvel oltre ad essere immortale perché Dio ha voluto la sua creazione e quindi solo Dio può distruggerlo effettivamente lo rendono appunto uno dei personaggi più 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 potenti è uno dei anche personaggi più meno utilizzati quindi più sottotono quindi non lo vedremo mai negli Avengers a combattere per salvare il mondo diciamo che fa parte dei cavalieri Marvel cioè quelli che agiscono di notte infatti si trova molto a suo agio a combattere al fianco di del punitore insomma di anti-eroi più che eroi in sé anche perché non è non mi vedrei molto anche se tecnicamente anche lui lotta per la giustizia divina a vedere Ghost Rider di fianco Capitano America comunque crossover ce ne sono stati allora vediamo se riusciamo a fare un no questo gioco è molto bello ma non è pensato per per non è ottimizzato per la guida quindi è difficilissimo a comandare allora facciamo questa gara e dove ok uah vediamo se riusciamo dove non è rimasto ecco i super no no ottene ok ho preso un taxi i super poteri di Ghost Rider oltre all'immortalità che è sempre un punto favore nei combattimenti tra i più famosi ci sono le sue catene di fiamme che appena finisco yeah festeggiamo con impennando no mi esplosa la moto yeah sono le catene vediamo se riusciamo a distruggere qualcosa ve le mostro le catene che in fiamme che possono uscire da ogni parte del suo corpo ebbene si sono indistruttibili possono anche solidificarsi più di quanto una catena sia già solida e abbiamo anche il respiro di fiamma comunque può lanciare anche fuoco da ogni orifizio del suo corpo e a quanto pare non fa niente ai passanti vede fa qualcosa al dottor destino si lo distrugge grazie adesso fai sfotti andiamo a vedere se riusciamo a distruggere oh qualcosa da distruggere yeah allora mentre distruggiamo le panchine di Manhattan le catene le catene io voglio le catene vediamo se riusciamo no questo è il respiro di fiamma qua non succede niente qua ridi spariteschi in fiamme mi fa piacere ma le catene ah eccole qua ok allora possono irrigidirsi per formare lance possono possono anche diventare degli shuriken se usa i singoli anelli possono formare un'armatura per proteggerlo se sei immortale ma non importa hai bisogno anche tu di protezione eccola qui e perfino durante un combattimento contro lucifero lucifero questa volta era davvero lucifero il diavolo si stupisce di come cavolo funzionano quelle delle catene lo rendono ovviamente molto molto potente anche perché sono tecnicamente indistruttibili l'altro potere più famoso ovviamente di ghost raider è lo sguardo della penitenza che qui è reso come un raggio calorifico che ti mostra può mostrarti guardando negli occhi un poveretto tutti i suoi peccati e fare sentire addosso la sua anima tutto il dolore che ha provocato sparroteschi in fiamme che ha provocato agli altri esseri umani quindi è proprio una punizione divina questo potere funziona praticamente con tutti tranne che con questo signorino qua Venom si è scoperto negli anni che aspetta che atterro e vi faccio vedere che lo sguardo di ghost raider non funziona con il simbionte in questo caso è di brock ma torniamo a ghost raider si posso diventare gigantesco ma parleremo di Venom più avanti eccoci qua poi Zaratos è uno dei nostri nemici un altro dei nostri nemici più famosi noi e dico noi in qualità di Johnny Blaze perché lo sto usando adesso di solito affrontiamo tra angeli e demoni nemici non proprio classici dell'universo marvel cioè raramente andremo a fermare le rapine in banca o combattere contro il goblin però tra i nostri tra i nemici più famosi di Johnny Blaze c'è Dormammu un demone che è praticamente la nemesi di dottor strange probabilmente lo vedremo nel nuovo film con bernard cumberbatch e anche Dormammu ha poterissime le nostre in qualità di demone ma ne parleremo più avanti di Dormammu Mr. Hyde che è una sorta di Hulk depotenziato un po' sfigato ma abbiamo anche affrontato eroi ovviamente in qualità di demoni non proprio buoni adesso dove siamo dove siamo che cos'è un attimo ecco quindi lo sguardo della penitenza è uno dei nostri poteri più più efficaci lo abbiamo usato anche con Galactus una volta che è praticamente stato sconfitto noi Ghost Raider può anche salire sul ponte può anche rigenerarsi completamente oltre a non morire anche questo è una cosa molto utile possiamo abbiamo una super forza immunità ai proiettili questo è sempre derivato dal fatto di minaccia ma hai detto jjj magneto mi sono perso cosa stanno dicendo ah si dei super poteri siamo super veloci possiamo anche usare la nostra moto per attraversare i piani di esistenza andare tornare dagli inferi e dal paradiso la nostra anima non può essere toccata dagli angeli e dai demoni a differenza di tutte quelle degli altri mortali per un patto stipulato mentre eravamo Kale Nobel Kale che altro ah le altre incarnazioni di Ghost Raider sono state negli anni 90 Daniel Kitsch scritto Che Hatch che a differenza di un chopper lui guidava un altro tipo di moto mi sembra una moto da corsa però non sono sicuro la sua fiamma era blu e si è trasformato in Ghost Raider non grazie a possessione demoniaca diretta ma rubiamo rubiamo una moto una moto una macchina da polizia ma grazie alla moto magica che ha trovato in un cimitero dopo che la sua ragazza era stata uccisa ha giurato vendetta nei confronti di chi l'aveva uccisa un po' una sorta di corvo diciamo e e grazie a essa si è trasformato nello spirito della vendetta poi ha incontrato Johnny Blaze che comunque è sempre stato il il Ghost Raider ufficiale tant'è che qui c'è Johnny e andiamo alla Rockson va ci sono dei problemi alla Rockson è stato sempre considerato il il Ghost Raider ufficiale diciamo quello più famoso e insieme formeranno un'alleanza per riuscire a fermare una una banda una banda demoniaca una cosa del genere una delle storie più interessanti di Ghost Raider è quella che ha dato inizio al al suo restyling non quello sto parlando quello di Johnny Blaze nel quale Lucifero che era riuscito a scappare dagli inferi insieme a lui che aveva creato una sorta di portale si è frammentato in 666 pezzi di anima Horcrux diciamo questi Horcrux sono finiti in 666 persone diverse e la testata era lui che andava a recuperarli tutti una sorta di Sailor Moon per metallari insomma è stato inventato nel negli anni 70 il nostro Ghost Raider e da allora la sua la sua testata è andata scemando ma non la sua popolarità anche se i film non hanno di certo aiutati aiutato eccolo lì che ride ancora il nostro il nostro Ghost Raider se ne va il nostro Ghost Raider è sempre stato uno dei personaggi più carismatici infatti molto spesso compare come vi ho già detto prima al fianco del Punitore un altro personaggio con diciamo una una moralità molto fievole mi sono perso dove è eccolo qua piccola nota c'è stato una volta in cui Hulk di questo ringraziamo gli anni 90 e del fatto che i fumetti vendevano poco e quindi ciao e quindi ma perché mi salutate tutti non sono così famoso mi frusto i fumetti vendevano sempre meno quindi hanno creato un sacco di mashup e c'era un Hulk adesso un Hulk posseduto dallo spirito di Ghost Raider e contemporaneamente dal Venom quindi c'era questo Hulk Venom in fiamme a bordo di un triciclo gigantesco in questo numero degli anni 90 che adesso non venite a chiedere qual è perché non me lo ricordo direi che ho parlato anche un sacco abbiamo fatto poco avete visto un po' della città ma per primo episodio direi che ci siamo o no sono stato investito vi siete visti un po' la moto di Ghost Raider il mitico Johnny Blaze con il suo cappottino di pelle e la prossima volta cominceremo a fare le side quest ce ne sono alcune che posso rifare altre le ho già fatte e non torneranno mai più però mi spengo se mi butto in acqua però troveremo qualcosa da fare non preoccupatevi non sarò solo io che sparlo yeah no giustamente tengo la testa fuori quindi yeah quindi non non mi spengo però illumino wow sono un cerino per il rinoceronte tutto vi do io mi diverto ancora un po' vi do appuntamento al prossimo personaggio che non so ancora quale quale sarà ma chi volete vedere ditemi voi e ne parlerò volentieri quindi alla prossima e yeah ah 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 oh ah